La nuova ordinanza regionale del Veneto di lunedì 13 aprile aggiornerà le disposizioni sul coronavirus. Per ora una sola anticipazione dal presidente Zaia, collegata alla possibile riapertura da martedì di alcune imprese sul trasporto locale. Qualsiasi tipo di trasporto pubblico locale, da quello acqua o quello su gomma, c'è l'opera della mascherina e dei guanti. Questo è fondamentale per noi, sono ambienti troppo confinati in mezzo di trasporto e quindi la diffusione del virus diventa facile perché si crea un aerosol di vaporacque. La tragedia non è conclusa, ha detto Zaia, sono molto preoccupato del fatto che qualcuno possa pensare che sia già finita. Vorrei restarsi agli atti. Voglio ricordarvi che l'apertura delle imprese non compete alla regione, non è uno scaricabarile, non compete. Lo dico perché è giusto chiarire questo aspetto perché tanti mi chiedono ma quali imprese aprirà martedì mattina? La regione non può aprire nessuna impresa e non può aprire le scuole. Al riguardo, Zaia porta avanti la sua convinzione che riaprire le scuole sarebbe un errore. Perché significa masse di ragazzi che si muovono e soprattutto ambienti confinati perché l'aula è l'ambiente più confinato che ci sia e quindi più pericoloso. Noi non possiamo permetterci che il virus abbia un'accelerazione, una nuova accelerazione. E pensare che i nostri ragazzi ci stanno dando l'esempio. Sono quelli che patiscono di più l'isolamento dagli amici eppure in giro non se ne vedono. Hanno capito benissimo la gravità della situazione e sono di esempio a tutti i Veneti. E vi chiedo di non abbassare la guardia. Poi discuteremo dei 200 metri da casa, se il negozio dei fiori sarà aperto o no, se altro. Però la messa in sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Infine i tamponi hanno intanto raggiunto quota 200.000 anche grazie al nuovo apparecchio arrivato a Padova dall'Olanda. Chi non ha positivi vuol dire che non fa i test, ha concluso Zaia.